ciao a tutti allora benvenuti in questo video allora vi spiego brevemente ieri bombonzito andate a vedere la sua live ha fatto vedere i suoi acquisti tra cui un negozio che io non conoscevo ed è proprio questo pepco ho cercato nella mia zona e ne avevo uno proprio vicino vicino a me quindi ci sono andata subito e vi faccio vedere cosa ho preso allora cominciamo dalla busta la busta che è una normalissima busta dove ho messo i miei acquisti questo è il lo scontrino ho speso soltanto 43 euro e 60 non ho preso tantissime cose ma ci tenevo a farvele vedere allora pepco è un negozio molto simile molto molto simile a primark ha praticamente lo stesso genere di cose candele roba per la casa cuscini lenzuola tendaggi vestiti per adulti per bambini cose a tema ad esempio avengers simpson friends eccetera eccetera allora vi faccio vedere le bandole ciancue vi faccio vedere che cosa ho acquistato allora partiamo dalla cosa più inutile ma mica tanto questa confezione di praticamente sono paper bags sono fatte di carta sono delle praticamente voi all'interno ci potete mettere i biscottini i panini sono 40 pezzi e io non so ecco dietro c'è il prezzo scusate allora in euro un euro e 80 questi sono comodissimi per permettere la merenda di liam quando va a scuola o insomma quando fa sport e si possono mettere dentro insomma il panino i biscottini quello che quello che serve quindi ho preso una confezione di questo poi ho preso una confezione da due boxer allora c'erano quelli di sonic però purtroppo non c'era la taglia di liam purtroppo questi erano in offerta 4 euro anziché 6 euro sono due paia uno è questo e l'altro è questo con batman eccolo qua dopo di che dopo di che non le cose belle le lascio alla fine dopodiché ho preso questo pantalone sempre per liam questo a tema minecraft che un'altra delle cose che piacciono a liam è fatto in questa maniera nero e dall'altra parte infatti potevo aprirlo diversamente per farvelo vedere c'è la scritta minecraft eccolo qua mi sembra buona come qualità però insomma vedremo mia apriti da sola la porta ma perché devo venire ogni volta comunque era in offerta anche questo a 8 euro ho preso la 140 centimetri 10 anni ecco qua 8 euro poi andiamo avanti ho preso una magliettina per me una magliettina da mettere in casa è molto carina allora è semplicissima ha praticamente un'arricciatura qui sul seno è manica lunga vi faccio vedere io ho preso una xl però le taglie arrivano fino alla 3 xl e l'ho pagata questa qui 5 euro e secondo me ne vale la pena adesso non si riesce a vedere perché è tutta nera quindi ah ci si è riuscita mia ad aprire la porta brava allora non si riesce a vedere però ha un'arricciatura qui sul seno e l'ho provata l'ho provata nei camerini e mi sta molto bene mi sta comoda ma la cosa che mi piace è il tessuto che è molto è tipo soft touch ecco cioè è molto morbido il cotone e l'ho presa in xl questo è il marchio credo che sia il loro marchio si chiama beloved woman molto molto carina morbidissima da mettere dentro casa secondo me top poi poi ho preso c'era un'offerta un'offerta prendi tre e paghi due quindi ho preso tre ciao ho preso tre di queste candele ve le faccio vedere se non fa il riflesso non riesco a farvela vedere allora ho preso tre candele diverse una si chiama winchester forest che sa tipo di pino silvestre praticamente queste candele mi piacciono tantissimo perché hanno tre stoppini e sono molto comode ognuna di queste se non erro viene 5 euro un attimo che vedo confermo sì 5 euro quindi le ho pagate tutte e tre 10 euro perché prendendo le due anche in diversa referenza avete lo sconto ecco allora ho preso questa qui poi ho preso questa che è veramente buona 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 si chiama champagne gold io non so che profumazione abbia lo champagne ma questa è veramente molto buona e dolce questa è stata la prima proprio che ho visto che mi è piaciuta e poi ho preso quest'altra che si chiama un ottimo che non riesco a leggere sweet campfire praticamente il campfire sarebbe il fuoco acceso tipo quello da campeggio avete presente quello che si vede nei film in campeggio ecco praticamente ha quella profumazione un po' di bruciacchiato però dolce si sente veramente tantissimo comunque sono belle secondo me anche da regalare e come usarle proprio per insomma valorizzare la propria casa ecco l'arredamento soprattutto questa verde non so se si vede no non si vede bene aspettate non so se si vede questo verde è veramente bello no non si vede raga è un verde veramente molto bello è questa no è questa quella verde scusate sono diventata daltonica no è questo il verde fantastico questa è tutta nera ecco perché vabbè sapete che sono mezza schuecata adesso arrivo ai pezzi forti alle cose che mi piacciono di più di tutte queste cose che ho preso è una è questa una è questa e insomma chi mi conosce sa che io adoro france quindi ho preso questa borraccia di france c'erano anche quelle che ha fatto vedere brunello ieri tra l'altro questa si apre così automatica e si beve direttamente da questa parte qua ne avevo bisogno assolutamente no e mi piace da morire assolutamente sì quindi non potevo non prenderla questa mi pare che costi 7 euro vi do conferma sì 7 euro lo vedete sotto questa viene 7 euro e poi dopo aver visto questa io innamorata ne ho vista un'altra e ho detto che faccio cioè cosa me ne faccio di un'altra e quindi che cosa ho fatto giustamente l'ho presa anche quell'altra e questo è l'ultimo pezzo cioè l'ultimo pezzo che ho preso in quest'hole insomma ed è questa un'altra borraccia e dirò qualcosa che solo pochi capiranno queste mi servono non si sa mai rimango nel deserto da sola quindi mi serviranno due borracce questo è sempre a tema france e ci sono tutte insomma le icone che riportano al telefilm ecco tra cui la mia preferita che è la cornice è carina carina carinissima anche questa mi pare che costi 7 euro sì costa 7 euro però ha un metodo diverso di apertura che io preferisco ed è questo praticamente basta alzare la levetta e si alza la cannuccia in plastica comunque io le adoro tutte e due mi piacciono un sacco alla fine vi ho detto tutti i prezzi vi ho detto tutto vi ho fatto vedere lo scontrino mi pare inizialmente ho perso eccolo qua lo scontrino come vi ho detto ho pagato 43 euro e 60 per tutte queste cose qua ecco sicuramente ci ritornerò è un negozio dove c'è veramente di tutto mi sono piaciute anche le tende che c'erano i cuscini veramente trovate di tutto però purtroppo io avendo la casa già arredata sinceramente non mi va neanche di caricarla di cose inutili ecco e ovviamente lo dico dopo che ho comprato due borracce di france ovviamente l'unica cosa che io veramente utilizzo tanto e quindi veramente non vanno sprecate sono le candele perché io le accendo sempre quindi le candele è un articolo che comunque io finisco e poi riciclo butto capito quindi posso ricomprare come prima impressione di questo negozio è sicuramente positiva i prezzi sono molto bassi sicuramente molto più bassi di Primark sulla qualità non vi so dire più di tanto perché ovviamente posso dirvi che al tocco il cotone sembra un buon cotone però bisogna vedere sempre con i lavaggi bisogna vedere come si comportano le varie cose comunque io vi consiglio di darci un'occhiata di farvi un giro mi raccomando non ammazzatevi tra di voi per favore insomma trovate cose utili ma soprattutto ma soprattutto tengo a specificare cose molto inutili quindi questo è tutto vi saluto vi saluto ciao ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima ciao